Non allontanarti dall'altare senza versare lacrime di dolore e di amore per Gesù crocifisso per la tua eterna salute la Vergine addolorata ti terrà compagnia e ti sarà di dolce ispirazione Fratelli e sorelle oggi è una data importante è il 13 maggio l'anniversario della prima apparizione della Madonna a Fatima noi sappiamo la devozione che Padre Pio aveva verso la Madonna di Fatima non dimentichiamo due date importanti nel 1917 la Madonna appare a Fatima e nel 20 settembre del 1918 Padre Pio riceve le stimate quest'anno noi stiamo celebrando il centenario delle stimate di Padre Pio e cosa succede? Che Padre Pio incarna tutto il messaggio di Fatima a Fatima la Madonna ha chiesto ai pastorelli Francesco, Giacinta e Lucia preghiera, penitenza e offrirsi vittime per la conversione dei poveri peccatori Padre Pio fa questo sin da bambino si offre vittima per la conversione dei poveri peccatori quindi io ci vedo questo nesso Fatima e Padre Pio sono legati Padre Pio vive in pienezza il messaggio di Fatima è bellissimo questo e non dimentichiamo che nel 59 la Madonna venne a San Giovanni Rotondo pellegrina e guarì Padre Pio da una malattia molto grave quando la Madonna stava per ripartire Padre Pio che non pote scendere in chiesa in quei giorni e preparò tutto con una novena trasmessa dal microfono che aveva dalla sua cella collegato alla chiesa del convento esortava tutti i giorni con un pensiero spirituale sulla Madonna la Madonna mentre sta per ripartire Pio da Pietrelcina dirà mammina mia sei venuta in Italia e mi hai trovato malato te ne vai e mi lasci ancora malato e subito Padre Pio in un istante guarì completamente tant'è vero che i medici fecero subito delle radiografie e Padre Pio era veramente guarito la Madonna non abbandona nessuno in particolare non poteva abbandonare questo figlio tanto amato da lei tanto tanto amato perché appunto viveva come Gesù nella vita di Padre Pio possiamo dire come si dice di San Francesco un altro Cristo un Cristo crocifisso piagato che versa sangue per la conversione dei poveri peccatori ma accanto a questo Cristo che si chiama Pio da Pietrelcina c'è Maria la Mamina 13 maggio 1981 Papa Giovanni Paolo II lo stesso innamorato della Madonna il suo moto totus tus in piazza San Pietro viene sparato e miracolosamente ne esce fuori lui stesso a testa una mano materna ha deviato quel proiettile ecco vedete i santi sempre sotto la protezione della Madonna amiamola non lasciamola mai fratelli e sorelle pace e bene a tutti grazie a tutti